Come promesso in questi giorni abbiamo pubblicato dei video e delle immagini che oggi noi eravamo qui in piazzale Gian Battista Quinci al cuore di Mazzara del Vallo dove molti turisti, molte persone che vengono fanno per prima base posto qua. C'era un degrado come avete visto dall'immagine veramente assurdo. Noi con una squadra di volontari oggi siamo stati qua presenti alle 8 di mattina perché noi siamo cittadini mazzaresi, perché noi amiamo questa città e vedere questo degrado ci ferisce al cuore. Noi con questa azione non è che ci vogliamo sostituire assolutamente dall'amministrazione, anzi vogliamo essere da stimolo che da domani in poi l'amministrazione, il sindaco e chi di dovere fa arrivare una squadra di dipendenti comunali per pulire ogni giorno questo territorio perché è una cosa veramente importante. Ci teniamo veramente a rendere Mazzara un posto ingattevole che ne parleranno tutti bene. Purtroppo per ora è una situazione veramente drammatica. Speriamo che questa azione porti veramente la gente a capire che questo territorio si deve tutelare anche per buttare una bottiglia di birra, un vazzoletto. Dobbiamo noi in primis tutelare questo nostro territorio e questa è una delle tante azioni. Spero che da domani, come detto l'amministrazione e come è successo in precedenza, si riesce a pulire ogni giorno questo posto che è il cuore di Mazzara del Vallo. Vabbè, diciamo che c'è poco da dire perché quello che hai detto penso che può bastare. Vedere un bambino qua alle mie spalle con un'età di 10 anni che fa la raccolta dopo la vergogna che viene fatta, io non aggiungerei altro. A nome di tutta la città di Mazzara svegliamoci un pochettino, dobbiamo essere l'esempio, viviamo qua, il futuro sono questi bambini che devono crescere in questa città. Dico noi che ci sono discorsi da fare chissà che, dico con la buona volontà di tutti possiamo secondo me ribaltare Mazzara e portarla veramente in piani alti. Detto questo vi auguro una buona giornata e un abbraccio a tutti.